Raffaele, iniziamo subito, come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Bentornati a tutti l'oroscopo musicale, oggi il compleanno di un'attrice italiana apprezzata e amata in tutto il mondo. Nel 1938 a Tunisi nasceva Claudia Cardinale, figlia di emigrati siciliani di tre generazioni nati a Tunisi. Papa Francesco Cardinale era un ingegnere tecnico delle ferrovie, mentre la mamma Yolanda Greco era casalinga. Claudia Cardinale, nella sua infanzia, frequentò a Tunisi le scuole francesi. Ma a maggior età, Claudia Cardinale, per quanto amava l'Italia e la sua Sicilia, rinunciò alla cittadinanza francese per la cittadinanza italiana. Come carattere, questa grande attrice era controversa, silenziosa, bizzarra e anche un po' selvaggia. E come tutte le ragazze di quell'età, era molto affascinata dalla grande Bibi Brigitte Bardot. Il suo primo contatto con il mondo del cinema fu la sua partecipazione, insieme alle sue compagnie di scuola, a un cortometraggio del regista francese René nel 1956. Fu sufficiente in quel film un suo primo e unico primo piano per farla diventare una celebrità locale. Ed essere richiesta dal regista Jacques Baratier per registrare la pellicola I giorni dell'amore, con protagonista l'attore Omar Sheriff. E nel 1958 arrivò il suo primo film italiano, I soliti ignoti di Mario Monicelli. Il film ebbe un successo strepitoso e così la cardinale divenne la fidanzata d'Italia. Nel 1959, mentre invece ci fu il suo primo ruolo importante nel film Un maledetto imbroglio di Pietro Germi. Lo stesso Federico Fellini disse questo sull'interpretazione della grande cardinale. Durante le riprese del film di Bolognini, Il bell'Antonio, la star della dolce vita, Marcello Mastroianni, si innamorò di lei che, pur attratta dal suo fascino gentile, lo respinse perché non lo prese sul serio, considerandolo uno degli attori che non possono fare a meno di innamorarsi delle loro compagne di lavoro. Nel 1963 arrivò la grande consacrazione per questa grande attrice con due mega film. Infatti, quell'anno lavorò contemporaneamente con due grandi registi italiani. Partecipò al Gattopardo di Lucchino Visconti e a Otto e mezzo di Federico Fellini. Sempre nello stesso anno, nel 1963, partecipò anche a un film, La Pantera Rosa, di Blake Edwards, nella quale recitò accanto ad attori importantissimi come Peter Seller e David Niven. Gli anni Sessanta, infatti, furono per lei gli anni più importanti, infatti era la più richiesta da tutti. Che le permise di lavorare con star assolute come John Way, Rita Edwards, Anthony Quinn, Tony Curtis, Rock Hudson, che divenne suo amico. Frequentò anche Alfred Hitchcock, Marilyn Monroe, Barbara Streisand, Richard Burton e Liz Taylor. Conobbe i Beatles, diventò amica di Steve McQueen, ma continuò a sentirsi estranea in quel mondo e ritornò nella sua bellissima Italia. Lavorando per un capolavoro di Sergio Leone, il film C'era una volta il West, riuscì a lavorare anche con il suo grande idolo, Brigitte Bardot, nel film western Le Pistolere, che qui erano rivali. Altro film che rimarrà nella storia è quello girato con il grande Alberto Sordi. Dal titolo, bello, onesto, emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata. Alcune curiosità. Ora la bellissima Claudia Cardinale risiede a Parigi, in Francia. Un'altra curiosità. Nel periodo degli anni Sessanta, ebbe un piccolo flirt con il bellissimo Marlon Brando. E Bob Dylan ammira così tanto Claudia Cardinale, che ha inserito una sua foto in un suo LP. Claudia Cardinale ha dichiarato Io non mi sono mai considerata un'attrice, sono solo una donna con una grande sensibilità e con quella che ho sempre lavorato. Mi sono accostata ai personaggi con grande umiltà, cercando di viverli dal di dentro, usando me stessa e senza far ricorso a nessun tipo di tecnica. Le donne che fanno il mio mestiere spesso sono disperate. Gli uomini, solitari, quasi sempre e quasi tutti, aspettano di esprimersi solo davanti alla macchina da presa. Che Dio conservi tra noi gli ironici, quelli che amano la vita pur del loro lavoro e soprattutto i pazzi. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto domani. Un grande abbraccio da Messilia Pagni. Ciao a tutti! Ciao a tutti!